a marco tu che si erano in tacoli fino a bucciare la sera e qua io ero in cima alla coa ma alla coa come si è fatto così una cosa questa si io stavo fuci fuci generale che si è buttato lì tutti gli uomini fino a Marzocchi che lui non aveva camminato qua mi ricordo che in cima al borgo me l'ho un po' peo alla piana gli avevano fatto una specie di rifugio gli avevano filato dentro al buco gli avevano fatto dentro al buco e poi nel pubo andavano in fuori quando ho largato il buco per tirarlo fuori non lo ricordo bene